Fate del bene a quelli che vi odiano. Luca 6, 27 San Patrizio comincia la sua confessione con le parole Io, Patrizio, un peccatore, il più rozzo e il meno importante di tutti i fedeli. Nel IV secolo, Elio, un britannico, fu preso come schiavo durante una incursione degli irlandesi. Affamato e nudo, dovette pascolare le loro pecore. La loro crudeltà fece nascere nel giovane ragazzo cristiano uno sciocco amore per i suoi schiavisti. Finalmente Patrizio riesce a fuggire. In Inglaterra, Libero, fa un sogno. Un uomo gli si avvicina con una lettera e Patrizio legge. La voce degli irlandesi. Quindi, udì molte voci irlandesi che gridavano Ti imploriamo, giovane santo, di venire ancora una volta a camminare fra di noi. Per uno schiavo fuggitivo, essere preso dai suoi antichi padroni poteva significare la morte. Ma Patrizio amava, quindi il pericolo non contava. Egli confessò ad un ecclesiastico un grosso peccato che aveva commesso. Patrizio rese pubblicamente noto il suo peccato e la Chiesa non volle mandare Patrizio in Irlanda. Così vi ritornò da sé e portò a Cristo i suoi antichi padroni. Gloria a Dio, fratelli. Dobbiamo portare ai nostri persecutori il Salvatore e portare loro al Salvatore. Pensa a chi ti ha fatto del male, più di tutti gli altri, e sia il tuo punto di onore di condurlo alla conversione. Gloria al Signore. Grande, grande lezione. Infatti mi ricordo, lavoravo con una missionaria irlandese, tanto tempo fa. E lei diceva che aveva questo amore per questo uomo, che ha portato questo grande santo, che ha portato Cristo a loro, agli irlandesi. Gloria a Dio, gloria al Signore. Guarda, ti prego, andiamo a Atti 16-23, da 23 al 34, nella storia del carceriere. Atti 16-23. E dopo aver dato loro molte vergate, li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente. Ricevuto tale ordine, egli li rinchiuse nella parte più interna del carcere e mise dei ceppi ai loro piedi. Verso la mezzanotte, Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio, e i carcerati li ascoltavano. A un tratto vi fu un gran terremoto. La prigione fu scossa dalle fondamenta, e in quell'istante tutte le porte si aprirono, e le catene di tutti si spezzarono. Il carceriere si svegliò, e vedute tutte le porte del carcere spalancate, sguainò la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. A quei tempi i romani uccidevano i carcerieri che facevano scappare i prigionieri, anche se non era colpa loro, anche se scappavano senza... perché pensavano che ci fosse corruzione. E per questo il carceriere, più che farsi, non so, crucifiggere, preferiva suicidarsi. Ma Paolo gli gridò ad alta voce, non farti del male, perché siamo tutti qui! Il carceriere, chiesto un lume, balzò dentro e tutto tremante, si gettò ai piedi di Paolo e di Sila. Poi li condusse fuori e disse, signori, che devo fare per essere salvato? Questo qui aveva attraversato un'esperienza, aveva visto un terremoto, questi qua con le catene che erano caduti, e non erano scappati, quindi qui c'è qualcosa assolutamente sovranaturale. Lo Spirito Santo gli parlava, per questo che si getta in ginocchio e chiede, che devo fare per salvarmi? 31. Ed essi risposero, credi nel Signore Gesù e sarai salvato, tu e la tua famiglia. Poi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua. Ed egli li prese con sé in quella stessa ora della notte, lavò le loro piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia, perché aveva creduto in Dio. Gloria al Signore. Atti 16, 23 a 34. Amen. Il punto qui va insieme alla storia che abbiamo letto, di fare del bene a quelli che ci odiano. Evidentemente qui c'è amore, qui. Qui Paolo e Sila potevano scappare, ma sentivano nello spirito che c'era qualcosa di meglio che scappare. E infatti lo spirito li ha guidati bene. Sono rimasti e hanno potuto evangelizzare il carceriere. Evidentemente erano così pieni di amore questi apostoli, sicuramente, che il carceriere si è gettato in ginocchia. Invece di dire, non mi uccidete, scappate pure se volete, io mi suicidio. No. Cioè lì l'amore si poteva toccare. Pensa quanto amore devono avere questi apostoli perché il carceriere si è gettato in ginocchia. L'amore, invece dell'odio, ha condotto il carceriere alla salvezza. Nel mondo un carcerato prende una spada, uccide il carceriere e scappa. Invece qui gli mostrarono amore in tanti modi e il carceriere si salva. Perché? Perché mostrarono amore al carceriere. Il carceriere è uno che chi ama, chi è il carcerato che lo ama. Sì, sì, sì. Cioè Paolo e Sila non hanno fatto il loro interesse di scappare dalla prigione e Dio li ha potuti usare grandemente. Anche Patrizio, prima abbiamo visto, se non segui il tuo interesse e vai anche nel mezzo ai nemici, però li ami con amore, Dio ti può usare grandemente. Guidato dal Signore è andato e è tornato in Irlanda. Sempre assicurarti con la tua chiesa di appartenenza se è una cosa del Signore. Che molte visioni, molti sogni, molte rivelazioni personali sono false, sono del diavolo. Devi sempre consigliarti con il tuo pastore, con cui a chiesa appartieni, prima di prendere decisioni grandi, anomale, insolite. Per esempio nel caso di Patrizio, tornare in Irlanda dove normalmente pensando la morte lo aspettava. Gloria al Signore. Mi viene in mente Giuseppe in Egitto. Mi viene in mente Gesù dalla croce. Padre, perdonali, non sanno cosa fanno. Ed ecco Gesù che dalla croce ama quelli che lo stavano inchiodando. Nel mondo normalmente questa gente bisogna maledirli, lì si maledice, lì si odia e magari anche parolacce. Invece Gesù cosa fa? Padre, perdonali. È incredibile l'amore di Dio. E dicevo Giuseppe in Egitto rispettò così tanto il capo della prigione al punto che tutto quello che faceva Giuseppe lo faceva in amore e il direttore della prigione non gli ha sfuggito. E allora cosa fa? Nomina Giuseppe direttore della prigione sotto la sua autorità. E allora fratelli, quello che cosa facciamo? Sempre in amore. Se lavori in un posto che ti maltrattano, se sei in un posto dove ricambiano il tuo amore con l'odio, il tuo bene con i dispetti, allora bisogna aumentare la medicina. E cioè più amore, più perdono, più sopportazione. E troppo spesso noi cristiani non siamo un grande esempio di questo. Però se vogliamo adempiere la volontà di Dio, vincere le anime, portarle al Signore, amare quelle che ci odiano, dobbiamo fare sull'esempio di Gesù. Padre, perdonali. non sanno quello che fanno. Infatti quello che Patrizio il Santo è questo quello che gli fece. Infatti lui è famosissimo, è quello che portò il Vangelo, appunto nel IV secolo, 1500 anni fa di più, in Irlanda. Fratelli, il Signore ci aiuti. Amen. Ovunque siamo c'è sempre qualche diavoletto, qualcuno che ci tormenta, che ci odia, che ha la sua gioia a farci del male. È lì che l'amore vince. È lì che si vede la superiorità di Cristo sul diavolo, dell'amore sull'odio, del perdono sulla vendetta. Amen. Signore Gesù ti benediciamo, aiutaci a essere così. Amen, Signore. Grazie, Signore. Aiutaci a essere così, Signore. Gloria a Dio. E questa è la vittoria che vince il mondo. La vostra fede, il vostro amore, il vostro perdono. Alleluia. Vincere il male con il bene. Dobbiamo assicurarci quando siamo in cielo e vedremo le anime morti all'inferno di quelli che hanno respinto Gesù Cristo, che in Isaia 66 dice saranno visibili a tutti i cadaveri. Verso 24, Isaia 66 dice vedranno gli adoratori di Dio, vedranno i cadaveri di quelli che si erano ribellati, bruciare, dove il fuoco non si spegne e il vermo non muore. E allora in quel punto lì dovremmo essere sicuri che avevamo fatto tutto il possibile per guidarli a Gesù tramite il nostro amore, perdono, misericordia, pazienza. Lo stiamo facendo. Quel fratello, quel fratello che ci ha ingannato sull'eredità, quel marito che è adulto, però è ancora con la moglie, quella moglie che dà i numeri, eccetera. Stiamo mostrando l'amore di Gesù. Magari certe unioni non potranno rimanere insieme. D'accordo, bisogna separarsi, ma fino all'ultimo momento, ad ogni occasione, stiamo mostrando l'amore di Gesù. Perché quel marito adulto, quella moglie infedele, prima o poi, prima o poi vedrà i frutti della sua malvagità. e a quel punto potranno ravvedersi, sarà dopo un giorno, un mese, un anno, dieci anni, cinquant'anni, non lo sappiamo. Prima o poi si ravvederanno, se sono cristiani. Se non sono cristiani, li aspettano i giudizi di Dio. Però anche davanti ai giudizi di Dio, anche dopo essere puniti, anche quando i loro cadaveri bruceranno, Isaia 66, 24. E' importante che la nostra coscienza ci possa dire, però io ho fatto tutto il possibile per portarli a Gesù, alla salvezza, e loro non hanno voluto. E' importante che abbiamo questa sicurezza nel cuore, confermata dal Signore. E' allora il momento di avere quella sicurezza domani, e di dimostrare amore, e perdono adesso. Signore, aiutaci. Signore, preghiamo la tua benedizione di noi. Noi non siamo capaci, Signore. Non siamo capaci. Preghiamo, fratello. Preghiamo e diciamo, Signore, non siamo capaci. Io non sono capace, Signore, di fare questo. Però il tuo Spirito Santo mi può aiutare. Aiutami ad amare quella persona, quelle persone a me vicino, che si meriterebbero tanto male, però io in Cristo Gesù gli farò tanto bene, gli mostrerò tanto bene, gli parlerò di tanto amore, così che tu mi potrai benedire, Signore, e così che anche loro un giorno potranno ravvedersi. E più amore gli mostro adesso, prima si potrebbero ravvedere. Nel nome di Gesù, Amen. Fratelli, vi bacio, vi abbraccio, e vi amo, e al Signore Cristo Gesù. Gloria a Dio. Perdonatemi a me, quando io non mostro abbastanza amore, quando mi arrabbio che non dovrei, perdonatemi. I soldi non essere un buon esempio. Se Patrizio non era un buon esempio, voi sapete che razza di disastro che sono io. Voglio ringraziare i fratelli e le sorelle che mi perdonano e usano pazienza verso di me e usano amore verso di me, amore che io magari ne ho poco, più amore di me. E questi fratelli, voi fratelli che avete più amore di me, sarete più vicini al Signore di me. Continuate. Non è in base alle opere quanto facciamo per il Signore, ma quanto amiamo. Nel nome di Gesù Cristo, Amen. Amen. Il Signore ci aiuti e lo Spirito Santo ci aiuterà. Dio vi benedica, fratelli.